Ragazzacci del web un salutone dalla bacio e bentornati su Exoria e prima che inizi il video come sempre vi ricordo di lasciare un like per sostenere me e la serie del canale e iscrivetevi sicuramente lo avete fatto e lasciarmi un commentino andiamo i consigli su quello che ho visto oggi Detto ciò ragazzacci bentornati su Exoria il modpack più famoso e incasinato che io abbia mai visto fino adesso Nello scorso episodio abbiamo fatto il Life Infuser per ottenere gli animali, i pesci, quanto casino che fai te e il Bee Attractor che ci ha consentito di ottenere le prime api non solo abbiamo fatto i primi pesciolini e per mia tristezza ho scoperto primo che non posso fare ancora gli animali tipo le mucche, le pecole, queste roba qui perché ho bisogno delle uova e delle galline e per fare uova e delle galline devo fare la Ember ma va bene e in più una volta datomi da fare con le api fatta questa piattaforma che l'ho fatta divisa per junk perché so che è meglio dividere le api perché se no fanno laggare ho scoperto che le api o perlomeno queste qui che ho a disposizione non solo fanno poco perché 60 pezzi di hash li faccio in 30 secondi qui e questi qui li farmo già questi va bene però questi non li posso manco utilizzare sono un po' un casino ho provato a fare dei breeding e ho ottenuto la Sandy che tra l'altro sento pata perché sono tutti droni diversi non capisco perché fa 700.850 droni diversi però fa 800.850 droni diversi mannaggia a lei devo modificare qui la faccenda ho ottenuto la Dust che prima funzionava ora si è intoppata perché se è modificata geneticamente non capisco più cosa vuole ho ottenuto delle rocche ho ottenuto delle altre la fishing non la posso cosare perché è troppo caldo la rocche è troppo umido troppo secco ho ottenuto una rocche queen la burning anche questa non funziona qui e ho ottenuto la gem che è quella che ci dà le gemmine le gemmine quelle funzionano ma tipo per fare dine un'altra questa qua che è la wheat sta andando però questa di qua si è intoppata ha perso la principessa e non ho e non ce n'ho più ce n'ho una che cicla e via e basta quindi boh non lo so cioè il sistemino qui funziona ho usato i filtri ho usato i pipe quello che deve andare dove deve andare va e e il resto finisce qua dentro però attualmente mi sembra un sistema un po' di cacca di farming dovrei sbloccare la gemdastry che è diciamo una mod parallela alla forestry ovvio questa roba qui guarda subito la faccio caseite ok come no contaci dicevo la gemdastry che mi dovrebbe consentire di modificare geneticamente le api però ho bisogno del bronzo ho bisogno della redstone e cose che ancora non posso ottenere e di conseguenza ho diciamo abbandonato temporaneamente il discorso api e mi voglio spostare su altri lidi anche perché queste qui sono penso 24 ore che ruzzano forse anche qualcosa di più e questo è stato tutto il prodotto ma va bene non ci facciamo problemi noi andiamo avanti con le nostre cosettine e vedremo di migliorare con il tempo detto ciò ragazzacci eh sì quest'oggi andiamo a fare il ramo delle quest resource automation nello specifico vorrei fare i shift direi di prendere il manual la ex nilo e vedere come ci fanno un po' di cosettine tipo lui come lo faccio legno legno e stick normale ok e invece le mesh con queste un po' una rottura di waller si fanno ne farei due attualmente posso trasformare qui no sono un bimbo triste ho del legno e non ho paura di usarlo ho attualmente 1700 stick e non ho paura di usarli ho delle slab pochine però ce l'abbiamo quindi te ce l'ho le scusi mi scusi lei ok io devo fare così ah perché sono quell'altre aspetta 8 e 1 9 va bene ok 8 e 1 ora lui giustamente ci dice prendi l'hash e smarmellalo e ottieni tutte queste belle risorse qua in diposcia per la quale direi di prendere un po' di hash giusto con qualche stacchettino e vedere che succede ora solitamente se non è cambiata tutta la faccenda questi qui lavorano anche in un 15x15 però se magari ci metto queste forse funziona meglio e se magari ne faccio un altro po' e faccio un 9x9 potrebbe essere interessante datemi due minuti una volta fatti i mesh restanti dovrei essere in grado di smarmellare quello che mi serve esattamente io tengo un po' di robettina ora con calma e gesso io dovrei fare un sistemino per automatizzare questa roba intanto vediamo di ultimare la missione ok e l'abbiamo ultimata molto bene siccome il creatore del pack è poco furbo o meglio è molto furbo c'è la missione che ne devo fare altri 8 perché si quindi tocca smontare tutto quanto e ripiazzare ah yes ci abbiamo tutti quanti i mesh sono stato bravo li posso ripiazzare sono stato bravissimo perfetto e vediamo di ributtare giù tutte quante le cose del caso lui giustamente ci dice questo e c'è lui potrebbe essere interessante perché quel coso dovrebbe smarbellare in automatico questi quindi direi datemi due minuti che mi sistema un po' la faccenda vedo di fare un po' di automatismi di quelli pelli di quelli interessanti e dunque ragazzacci se vedete una schermata statica è perché il buono OBS come sempre me l'ha messo in quel posto e si è piantato su questa schermata non ha registrato niente quindi poco da dire ho semplicemente messo giù per bene sieve ho sistemato l'affare che automatizzava e dopodiché le quest ci spingevano verso il fatto di fare i mesh di flint e di iron visto che erano crafting concatenati e parecchio noiosi ho deciso di fare un'altra pausa e risparmiarvi tutti quanti i crafting allora ragazzacci è passata un'altra buona mezz'oretta e nel frattempo ho picchiato come un disperato contro i muri la finta per fare questo manco mi bastava mi è toccata far male dell'altra con quella cosa la e ho sforbiciato un bel po' di robetta perché questi qui si fanno nella crafting table con il martello niente di che ma questi si fanno con le forbici e le forbici e questi fanno con la rompeite e la rompeite si picchietta va bene le forbici non sono un problema insormontabile sono plate stichettini si fanno però dupal fatemelo dire quindi allora facciamo così questi due li facciamo qui questo lo facciamo di qua così perlomeno lui è contento e felice e ha le missioni poi vorrebbe un lapis e un quartz il lapis e il quartz chi me lo dà ecco per esempio il lapis me lo dà già la flint il quartz non me lo dà l'iron eccolo qua ok quindi io farei così mi faccio questi cioè me li faccio tutti di flint perché tanto prima o dopo li devo fare ok ok qui ce n'è un altro e qui ce n'è un altro però poi me ne lascio uno di flint perché tanto lo so già che lui se no non mi legge la missione e lo facciamo dopo oh yes ora torniamo giù qui ho staccato un attimo anche perché si cominciava quasi a riempire la faccenda e quindi mettiamo questi qui giù quello di flint aspettiamo come mi triggera il cervello quel coso lì che fa le va bene ci prendiamo un pochettino di ash e lo mettiamo a fare magari gli diamo anche una manina e abbiamo finito la missione top della vita di conseguenza ci si sblocca tutta una serie di cosettine un'altra cosa da farmare è sicuramente il dust e il dust è un risultato dello smarmellamento dell'ash se non ho capito male ok quindi questo 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 e questo mi da il dust e però mi chiede ok la roba questa qui il crushed quartz e il certus che me lo dovrebbero dare già questi non sempre pezzo di fango un velenito ok adesso abbiamo una cosettina interessante perché ci si apre la caminette da una parte e quindi il discorso diciamo della ember interessante e dall'altra diamond che il diamond me lo dava la dust però vuole perlomeno l'iron proviamo qualcosa è arrivato non so cosa ok probabilmente si è ciucciato mezzo rovo e scommette no ce l'abbiamo il tiny quindi che ti manca la prismarine non mi hai dato la prismarine brutto pezzente e c'è la probabilità che non ti dia niente ok è arrivata anche questa altra missione ok perfetto ci si sbloccano belle cose e vedi hidden command però il diamante se non va sbaglio si fa con questi che si fanno ci si fa questo ecco questo va fatto nel condensare quindi ragazzarci sembra che finora non abbia fatto un granché però fidatevi che questa potrebbe essere una svolta perché fondamentalmente ci dà accesso a svariati diversi materiali e quello che adesso io devo andare a fare è andare a sistemare tutto quanto e vedere di automatizzare le cose perché tipo questi qui io li posso rimettere in circolo qua dentro ok questi io li devo mandare in automatico da un'altra parte bene tutta quest'altra robettina che mi arriva la devo stoccare in qualche modo perché questi qua tipo sono anche fuel tra l'altro ok però ci si fa questo che ci si fanno parecchie robe tra cui appunto i condensare che ci servono ora quello che fondamentalmente dovrò andare a fare sarà in primis un sistema di automazione per quanto riguarda il rifornimento dell'hash ce ne abbiamo un bel po' però si può fare di meglio secondo un sistema di smistamento per quanto riguarda tutti quanti questi item penso che lo farò simile all'altro e di conseguenza poi un sistema che da qui mi butta di qua e eventualmente ne farei anche un terzo poiché c'è anche il discorso della gravel ah però del mystic world come la faccio io questa ah in un'altra dimensione ancora ok va bene mi ci devo un attimino studiare ragazzacci detto ciò ragazzacci potrebbe sembrare che non abbiamo fatto un cazzo di niente ma fidatevi che abbiamo fatto una cosa molto importante come sempre mi aspetta tanto lavoro camera quello non mi dispiace non mi manca e vedremo di fare tutte quante le cose per benino anche perché devo capire per bene come fare in più stavo anche pensando di cambiare le pareti perché queste ok queste sono un po' me tipo per esempio non mi dispiacerebbe utilizzare il tyran come blocco che non è male vediamo bene si fa abbastanza facile con dell'iron e della stone cosa che prima non potevo fare per il semplice fatto che non avevo abbastanza iron ora che ce l'ho potrei pensarci per non parlare del buon vecchio factory block che però vuole il quarzo quindi no sì penso che userò il tyran fatemi sapere sotto con un commento che ne pensate secondo me può uscire un qualcosa di carino detto ciò ragazzacci con le maniche sempre più rimboccate ormai abbiamo passato i gomiti siamo arrivati alle ascelle il nabaccio vi saluta e ovviamente come sempre se vi è piaciuto il video invito di lasciare un like un commento a condividere questi video tra l'altro se avete ancora fatto iscrivetevi al canale dal nabaccio shakara 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 un salato nabaccio alla prossima tchau tchau